Massimo Coccia, direttore artistico di Armonia Novissima, si apre il sipario, Alice, il debutto, una prima molto attesa ma che apre anche una stagione musicale veramente per tutti i gusti. Sarà la nostra dodicesima edizione qui al Teatro dei Marzi, Alice che canta i maggiori cantatori italiani aprirà questa sera e chiuderà la stagione a marzo con la premiata Forneria Marconi, quindi l'apertura è chiusura con il pop ma all'interno linguaggi musicali molto variegati e diversi dall'opera lirica al balletto classico, al balletto moderno, la musica jazz con Fabrizio Bosso, la musica classica con anche mostri sacri della musica classica come Enrico Dindo, maggiore violoncista età, e Alexander Cobrin, grande pianista russo, senza escludere musica per immagini, un bellissimo revival sui Beatles e quindi di nuovo vogliamo offrire un cartellone variegato appunto per tutti i gusti. Allora, la prima è anche una tradizione, una tradizione importante che dà un input agli studenti, una premiazione. Sì, abbiamo conferito degli abbonamenti in omaggio grazie al sostegno dei nostri sponsor, in particolar modo Fondazione Caris, Pac Micron e Tecnico, insieme al Comune di Avezzano. C'è stata oggi pomeriggio qui nel Foglio del Teatro l'alluminazione agli studenti meritevoli che hanno, nelle scuole superiori di Avezzano, hanno ottenuto il massimo dei voti nell'ultima sessione di diploma di maturità. È un segnale simbolico importante perché vogliamo appunto che il teatro venga frequentato dai giovani e che questi giovani già meritevoli per i risultati acquisiti negli studi possano appunto avere la possibilità, l'opportunità di vedere dal vivo gli spettacoli di questi diversi generi appunto musicali, conoscerli meglio, soffrire appunto di questa possibilità di frequentare il nostro teatro. Armonia Novissima, il presidente che è Pino Franceschini, però Massimo Coccia, insignito da poco veramente di un titolo che è fiore all'occhiello, non solo per il territorio marsicano ma a livello nazionale, che ben concilia la sua funzione anche di direttore artistico. Sì, questa funzione nell'Associazione Italiana Attività Musicali, nel direttivo nazionale, è importante perché comunque riguarda il coordinamento di oltre 80 società concertistiche, enti concertistici italiani e quindi per l'Armonia Novissima e per la nostra città anche appunto fondamentale restare in contatto con realtà di tutta Italia che in qualche modo praticano appunto il nostro stesso lavoro, quindi quello proprio dell'organizzazione e dell'allestimento di cartelloni, di stagioni ad abbonamento, quindi è importante il confronto, è importante la crescita. Era proprio per mandare il lancio al pubblico per dire una stagione musicale veramente per tutti i gusti, da non perdere e abbiamo qui la possibilità di tuffarci nella cultura.